Buon pomeriggio, grazie mille di essere qui presenti e presente. Sono Juan Pablo Santi di Palazzo Ducale e ho il piacere di presentare il professore Stefano Zuffi che oggi ci viene a raccontare il racconto dell'arte italiana da Vernini Alcanova, l'ultima produzione, il suo ultimo libro, quindi siamo molto felici di accoglierlo ancora. Grazie mille e buona presentazione. Grazie di cuore, grazie. Grazie Juan Pablo, grazie carissimi amici. Conosco personalmente ormai molti di voi, è un grande onore essere ancora una volta qui sotto le volte della Sala del Maggior Consiglio ed è un grande piacere. ritrovarmi in questa città che mi è così profondamente cara. Sì, è vero, questo è l'ultimo libro mio che è uscito, è un libro che mi è stato sollecitato dalla casa editrice, dalla casa editrice Epli e l'ho fatto con grandissimo piacere perché in realtà questo libro è la seconda puntata di un racconto, di una narrazione che è iniziata due anni fa un po' alla chetichella con un altro libro che ha avuto la sfortuna di uscire proprio mentre iniziava questa lunga, faticosa camminata che abbiamo fatto tutti quanti attraverso il mistero del Covid. E quindi questo povero libro, il racconto della pittura italiana da Giotto a Caravaggio si è inabissato nel silenzio, però in realtà esiste, povero. E il direttore editoriale della Epli un po' dispiaciuto dice guarda mi dispiace il libro, non è stato possibile fare nessuna presentazione in pubblico perché non ci si poteva vedere, non ci si poteva incontrare. Dice però senti guarda ma il libro è piaciuto, dico beh meno male che qualcuno l'ha letto, insomma almeno lui, e dico ma perché non ne fai una seconda puntata. Ci abbiamo pensato un po' su, ci ho pensato un po' e gli ho detto sì, la faccio molto volentieri però c'è una difficoltà perché mentre in questo primo volume che chissà, magari qualcuno di voi con un piccolo scavo archeologico potrà ritrovare da qualche parte probabilmente il libraccio ce l'ha, mentre questo primo volume è proprio dedicato alla pittura infatti da Giotto a Caravaggio e ha in copertina un dipinto, io trovo molto tenero, molto grazioso di un ritrattista bergamasco, Gian Battista Moroni, proprio la scelta di Bergamo era proprio legata al momento in questo 2020 in cui la città di Bergamo sembrava proprio la prima trincea, la prima linea di questo fronte anche molto drammatico, io ho detto per il secondo volume non può limitarsi solo alla pittura, bisogna aprire le maglie, allargare le maglie e coinvolgere anche la scultura e un po' almeno un pochino di architettura tant'è vero appunto che il libro si intitola Da Bernini a Canova e ha in copertina una scultura spettacolare, bellissima, molto sensuale di Gian Lorenzo Bernini, il ratto di Proserpina Il libro del 2020, appunto il racconto della pittura, terminava con Caravaggio Caravaggio era, come dire, la stazione di arrivo di questo percorso, di questa narrazione che iniziava con le pecore di Giotto e finisce con le tenebre caravaggesche e inevitabilmente il primo capitolo di questo nuovo volume dice dove eravamo rimasti, dove ci eravamo fermati, qual era stata la conclusione di questa prima puntata, di questa prima pagina di questo primo incontro e quindi il libro si apre con lo scenario di Roma all'inizio del 600, questa città che si apre con dei fasti straordinari, con degli incontri importantissimi internazionali, tutti gli artisti d'Europa del 600 con qualche rara e preziosa eccezione vengono a Roma, si incontrano a Roma, scambiano, si intrecciano, si confrontano fra di loro per cui si comincia con questo scenario e si va avanti, si va avanti come? Beh, io all'epoca avevo detto questo sobrio e severo direttore editoriale di una casa editrice molto paludata perché è la Öpli, casa editrice fondata da uno svizzero che ha la sua forza in una tradizione di rigorosa, austera, manualistica, professionale, se ci sono degli ingegneri in sala e credo di sì, sanno che il manuale dell'ingegnere della Öpli è stata una specie di pietra miliare ecco per gli studi dell'ingegneria per direi tutto il novecento, il Colombo, il Colombo annuisce, però io gli ho detto guarda secondo me io ho una lettura che mi ispira molto, io ho un punto di riferimento nella mia cultura letteraria che è la gazzetta dello sport, io leggo la gazzetta dello sport e mi diverto molto, poi sono anche interista quindi oggi la leggo con una soddisfazione particolare e dice io vorrei affrontare anche questi grandi maestri, questi grandi artisti, queste grandi opere d'arte, questo immenso patrimonio che ci è stato proprio dato a piene mani, che abbiamo ricevuto insomma e di cui siamo fortunati, felici ma anche a volte un po' maldestri eredi, open to meraviglia, ma sarà insomma, io vorrei raccontarlo con la concisione e con la chiarezza con cui vengono raccontate le partite sulla gazzetta dello sport che cercano di farti rivivere quasi come se tu fossi lì, come se tu fossi in diretta degli episodi, dei momenti, dei gesti, anche delle imprese in qualche modo e dall'altra parte c'è una cosa che io ho cercato di adottare sempre riferendomi alla gazzetta dello sport che sono le interviste a bordo campo. Allora quando si parla di delle fonti, delle citazioni, ecco che subito dice che palle, ecco queste cose erudite di andare a rileggere le fonti dell'epoca, invece vi garantisco, fidatevi, sono bellissime. Andare a leggere che cosa scrivevano i contemporanei degli artisti vuol dire innanzitutto ritrovare anche una lingua un po' diversa rispetto alla nostra ma spesso piena di sapore, piena di verbo, poi ritrovare delle polemiche, ritrovare delle situazioni che appartenevano alla contemporaneità, alla realtà e non a quella forma di musealizzazione, quasi di cristallizzazione che noi a distanza di secoli inevitabilmente abbiamo fatto. Ora io adoro l'arte antica, mi piace, mi parla, riconosco la sua voce, il suo linguaggio, le voglio bene, ho una gratitudine nei confronti dell'arte, ha reso più bella la mia vita e bastasse questo per cercare di restituire un po' del piacere che ho provato. Ma la cosa per me più importante di tutti è cercare di capire che questi vecchi maestri, antichi maestri, queste opere d'arte non sono dei marziani dotati di superpoteri e diversi rispetto a noi poveri mortali. Tiriamoli giù dai loro piedistalli, non guardiamoli come se fossero appunto delle sacre reliquie, ma ritrovare la verità di situazioni di mercato, per esempio, di concorrenza, di sgambetti o di sgarbi o di inciampi equivoci che appartenevano alla freschezza della contemporaneità, della attualità. Ecco, renderli attuali. Questo è lo sforzo che avevo fatto nel primo volume e ho cercato di rinnovarlo nel secondo volume, che è un pochino più difficile, perché prima io orecchiavo un po', sentivo un po' l'atmosfera e sentivo dire, ma basta col barocco, basta, barocco basta, è musadetu, basta. Ecco, invece questo è un libro che è largamente dedicato al barocco, per cui io devo stare un po' schiscio, cioè cercare di non farmi riconoscere troppo. Il barocco che comincia proprio, che fa i suoi primi passi in questa favolosa Roma dei primi anni del Seicento, dove succede tutto, dove appunto da una parte c'è il forte, appassionato realismo, naturalismo di Caravaggio, dall'altra parte contemporaneamente c'è l'accademismo classico, solare, compiaciuto, pieno di energia, non un freddo accademismo, ma una piena adesione alla bellezza antica di Annibale Carracci, e poi c'è anche il vostro ex amico Rubens, che siamo sempre lì, sono tutti insieme, che invece a cui piace abbondare, a cui piace metterci un po' di più dello stretto necessario, no? E quindi ecco il naturalismo di Caravaggio, ecco l'eclettico accademismo classico di Annibale Carracci, ed ecco il primo vero barocco di Rubens. Tutto insieme, che bellezza, no? Questi che si muovono e tra l'altro a volte lavorano anche insieme, e si incontrano fra di loro, e si confrontano, si comprano i quadri addirittura. Rubens compra un quadro di Caravaggio. E insomma, cercare di provare, di immaginarsi di essere lì, e di vedere con i nostri occhi quello che stava succedendo. Vedere, per esempio, il grande successo degli Emiliani, perché Annibale Carracci arriva a Roma, affresca la Galleria Farnese, quindi lavora per una delle famiglie più forti, più autorevoli, più ambiziose della Roma, dei papi, della curia, dei cardinali, della nobiltà nera, insomma, delle famiglie di una stretta oligarchia al potere. E naturalmente Annibale Carracci, che cosa fa? Cerca di patrocinare, di favorire, di dare una mano ai suoi corregionali o addirittura con cittadini, i bolognesi e gli emiliani. E Roma si riempie di pittori emiliani, alcuni dei quali addirittura si fanno le ossa collaborando con Annibale Carracci, e altri, per esempio Guidoreni, e altri invece arrivano un pochino dopo, ma sono comunque molto autorevoli. Guidoreni, tanto per ricordarci anche delle date, Guidoreni nasce nel 1575, Caravaggio nasce nel 1571, Rubens nel 1577. Sono praticamente coetanei. Invece noi, nei nostri manuali di storia dell'arte, nei nostri studi, li vediamo separati in capitoli diversi e a volte anche lontani fra di loro. Perché la scuola bolognese viene diverse pagine dopo rispetto a Caravaggio, a Rubens. Invece il tentativo, e allora qui subentra un altro modello letterario importante, il tentativo è quello di recuperare la contemporaneità. L'altro modello letterario fondamentale, oltre alla gazzetta dello sport, è tutto il calcio minuto per minuto. Tutto il calcio minuto per minuto è una storica trasmissione radiofonica che ha assillato, penso, le domeniche di alcune signore, ma che aveva, devo usare il passato perché adesso le partite non si giocano più tutte contemporaneamente, aveva la caratteristica che alla radio si seguivano molto rapidamente gli interventi dai diversi campi di gioco e quindi c'era la descrizione un po' di tutte le partite contemporaneamente. E anzi, c'era la possibilità di interrompere un racconto. Ah, un momento c'è stato un gol in un'altra partita, oppure è stato espulso Tizio, c'è un rigore clamoroso al Cibali. Ecco, le interruzioni erano funzionali a tenere alta la suspense. Allora qui vedete per esempio alle mie spalle due capolavori, due opere in signi, tutte e due tra l'altro conservate nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, e sono La strage degli innocenti di Guidoreni e La vestizione di San Guglielmo di Aquitania di Guercino. Guidoreni e Guercino, due pittori entrambi presenti nei musei genovesi, con delle opere importanti, con delle opere significative, però Guidoreni e Guercino sono degli artisti molto significativi, che hanno un approccio piuttosto diverso. Quello di Guercino è più forte, più rustico, più ruvido all'inizio, con delle chiazze, delle macchie di luce molto forti, che possono ricordare un po' Tintoretto, possono ricordare la pittura del Cinquecento Veneto, mentre Guidoreni va verso un'eleganza, un garbo, una grazia, un controllo maggiore. Poi le cose nel corso del tempo cambieranno e anche Guercino si avvicinerà a Guidoreni. Avete presente la Cleopatra bella di Palazzo Rosso, no? La Cleopatra è un'opera della maturità di Guercino, quando Guercino mette un po' un freno alla esuberanza giovanile e si accosta di più ad un controllo più garbato, un po' appunto alla Guidoreni. Altro confronto, secondo me interessante, è fra altri artisti che vedete... Allora, diciamolo in un altro modo. Quando noi visitiamo un museo, siamo abituati a fare un percorso cronologico. La grande maggioranza dei musei, non tutti, perché alcuni... Per esempio Palazzo Spinola ripropone il fasto di una quadreria principesca dove non c'era tanto il desiderio o la necessità di un percorso cronologico, didattico, organizzato, ma invece in generale i musei cominciano con le opere più antiche e mano a mano si viene in avanti. Cosa succede in questo modo? Che quando si arriva alle sale del VI e del Settecento si è già stanchi, stremati, non si ha più voglia di vedere niente. E mentre all'inizio l'attenzione è molto forte, si guarda, si leggono tutti i cartellini, se ci si predispone ad una osservazione metodica, man mano che si va avanti si salta un po', si va un po' più veloce. Ed è un po' un peccato perché ci sono dei pittori fantastici, ad esempio un altro amico di Genova, Orazio Gentileschi. Orazio Gentileschi, porca miseria, è un pittore con i controfiocchi. Era un uomo terribile, le cronache dell'epoca ce lo descrivono come veramente un uomo intrattabile, sempre di pessimo umore. Qualcuno gli dice, se fosse stato un po' più umano anziché bestiale, sarebbe stato anche più famoso come pittore. Ma la pittura di Orazio Gentileschi, questa è una delle versioni dell'annunciazione, di cui una delle più belle è proprio qui a Genova, sull'altare originario. Questa in realtà è l'altra versione, quella della Galleria Sabauda di Torino. Orazio è un pittore che riesce a trovare un equilibrio tra la verità affettuosa caravaggesca, lui conosceva molto bene di persona Caravaggio, era un amico di Caravaggio, era un compagno di bevute di Caravaggio, ed è stato anche un compagno di disavventure giudiziarie di Caravaggio, con però una eleganza, una raffinatezza e con dei colori anche luminosi che ne fanno uno dei pittori più godibili, più gradevoli del primo Seicento. Invece l'altro pittore, quello che vedete nella parte sinistra, è un pittore napoletano che si chiama Battistello Caracciolo. Battistello Caracciolo, altro pittore che ha conosciuto personalmente Caravaggio ed è stato folgorato dall'arrivo di Caravaggio a Napoli, Battistello è un pittore che ama immergere nel buio, nell'ombra, nella tenebra, nel mistero, nella oscurità le sue scene, addirittura contravvenendo alla narrazione. Per esempio a Milano, nella Pinacoteca di Brera, c'è una samaritana al pozzo di Battistello Caracciolo. Nel racconto evangelico si dice esattamente che questo incontro avviene a mezzogiorno, proprio è definito a mezzogiorno, e anzi gli apostoli erano andati nel villaggio per comprare qualcosa da mangiare, per pranzare, però nel dipinto di Battistello Caracciolo la scena avviene di notte, in una notte oscura e senza luna. Quindi Battistello Caracciolo ha questa tenebrosa, ma anche fascinosissima pittura. Questo dipinto, che è uno dei suoi capolavori, rappresenta San Pietro che evade dal carcere con l'aiuto di un angelo. C'è questo angelo bianco, questo unico elemento molto luminoso della scena, che sta conducendo cautamente San Pietro fuori dalla prigione mentre il guardiano è addormentato. Vedete, San Pietro che cammina piano piano per non correre il rischio di svegliare la guardia. Vedete, questi due dipinti sono praticamente coevi fra di loro. Siamo intorno al 1620 e vedete proprio queste opzioni, queste alternative. Alternative che noi poi possiamo misurare anche sulla fortuna di alcuni soggetti. Ecco, bisogna dire che la pittura del 600 ha la caratteristica di vedere un pubblico di collezionisti, di amatori, che si allarga. Sapete molto bene che molti di questi collezionisti erano proprio genovesi, che Genova era una delle città predilette per il collezionismo, il mercato delle opere d'arte. E ci sono alcuni soggetti, alcuni temi, che hanno particolarmente successo e che un po' tutti i collezionisti volevano avere. Non c'era collezione dove non ci fosse una Giuditta e Oloferne. Quindi questo tema francamente macabro di Giuditta, che in modo più o meno violento, più o meno sadico, decapita questo generale Assiro che aveva assediato e che stava per conquistare la piccola città israelitica di Giuditta, beh, questo tema è un tema ricorrente nella pittura del Seicento. E per me sarebbe anche divertente, per me, magari per voi, no, fare delle mostre con lo stesso tema, lo stesso soggetto, affrontato da pittori diversi. Il tema classico sarebbe la Giuditta e Oloferne. Giuditta e Oloferne che naturalmente si presta ha delle interpretazioni molto diversificate e una delle più celebri interpreti della storia di Giuditta è stata Artemisia Gentileschi, figlia di Orazio e figura di donna e di pittrice molto nota. Negli ultimi anni si sono susseguite mostre, iniziative, rivisitazioni, pubblicazioni anche dedicate a questa coraggiosa e brava, abile donna pittrice e spesso ci si sofferma su questa pessima, bruttissima avventura che Artemisia ha vissuto da ragazza, da adolescente e cioè uno stupro. Lei è stata presa e stuprata da uno dei collaboratori del padre, un paesaggista, Agostino Tassi e Artemisia, bisogna dirlo, spalleggiata dal padre intenta un processo, cioè accusa questo stupratore anche oggi, 400 anni dopo, è difficile per una donna accusare e trovare e avere giustizia e ad Artemisia ne succedono di tutti i colori perché a un certo punto per verificare che lei stesse testimoniando il vero e che non stesse né esagerando né accusando ingiustamente qualcuno la torturano e le stringono le dita in uno strumento di tortura che pressa, stringe e quasi deforma le dita pensate, lei, pittrice, aveva già iniziato aveva rischiato di perdere la sensibilità delle dita per avere giustizia e fare testimonianza di questo stupro lasciamo perdere, adesso non sto a raccontare tutta la vicenda tanto la conoscete quello che è vero è che Artemisia ha dipinto volentieri dei quadri in cui delle donne si vendicano su degli uomini delle scene in cui la donna ottiene una vittoria anche macabra anche sanguinolenta come in questo caso e il dipinto in cui vedete Giuditta vestita con un splendido abito blu con questo blu carico in tento che sta proprio tagliando la testa di Oloferne in un lago di sangue che non casualmente sta inondando il letto su cui si trova Oloferne è una delle immagini più violente di questa sequenza ideale che noi potremmo mettere di Giuditta e Oloferne ma la cosa interessante è che nel racconto vetero testamentario si dice che Giuditta era accompagnata da una sua anziana fantesca che si chiamava Abra e questa Abra è una donna avanti negli anni che faceva diciamo da cameriera della nobile Giuditta Artemisia fa intervenire anche Abra ma nel caso di Artemisia Abra non è una donna anziana forse avete presente il caso di Caravaggio dove c'è quella nella Giuditta di Caravaggio c'è una donna stupefatta tutta rugosa e raggrenzita ma al contrario qui c'è una fortissima solidarietà femminile dove l'altra ragazza la Fantesca partecipa molto attivamente alla decapitazione di Oloferne lo tiene fermo si è rimboccata le maniche si è tirata su le maniche e sta proprio cercando di tenere fermo il povero Oloferne che si dibatte inutilmente sotto appunto la tenuta la presa di Abra e sotto la spada di Giuditta che gli sta proprio staccando la testa dal collo se voi fate il confronto con l'altro quadro vedete un atteggiamento completamente diverso l'altro quadro è di un pittore fiorentino raffinato elegante un po' disincantato distaccato certamente molto meno preso dalla vicenda rispetto ad Artemisia e questo dipinto si chiama Cristofano Allori un bellissimo quadro sontuoso e sappiamo però dai contemporanei che Cristofano Allori ha dipinto questo quadro con anche lui una vena autobiografica ma diversissima rispetto a quella di Artemisia perché pare che la testa mozzata di Oloferne sia il suo autoritratto Giuditta è il ritratto della moglie e Abra è il ritratto della suocera quindi ha fatto questa questa operazione altro tema ricorrente nel Seicento è Davide con la testa di Golia e quindi anche qui si potrebbe fare tutto un bel percorso alternativo vedendo vari pittori qui ne ho scelti due ma così un po' per simpatia un po' per gioco di varietà il veronese Domenico Fetti e il piemontese Tanzio da Varallo Tanzio da Varallo è quello che rappresenta questo Davide con questo braccio muscoloso nudo mentre Domenico Fetti ci fa vedere un Davide che sembra quasi un paggio un elegante paggio con il cappello piumato in testa è un libro questo da Bernini a Canova pieno di Genova pieno di riferimenti all'arte genovese d'altra parte c'è un capitolo che si intitola come una mostra di qualche anno fa è il siglo dello genovese se ve la ricordate quella mostra che prendeva proprio spunto da questa definizione data dagli spagnoli del 600 il 600 come il secolo dei genovesi questo lo dicevano gli spagnoli che avevano i loro soldi depositati presso le banche genovesi e tra i maestri genovesi non può ovviamente mancare il caro Bernardo Strozzi con anche lui però le sue vicende particolari perché sapete la storia la biografia di questo personaggio frate Cappuccino però molto più legato alla pittura che alla devozione che comincia ad avere dei guai con l'ordine dei Cappuccini viene ripreso ripetutamente dovrebbe dedicarsi più alla fede e meno ai pennelli a un certo punto poi lui basta lascia l'abito monastico per dedicarsi alla pittura e per la verità lascia anche Genova per andare a terminare la sua vita la sua carriera a Venezia però Bernardo Strozzi è proprio una delle punte di diamante di questa vasta scuola della pittura genovese che parte naturalmente all'inizio del Seicento con i nomi illustri degli ospiti fiamminghi di Rubens prima e scusate io sono abituato a dire Van Dyck poi voi dite Van Dyck come preferite comunque Rubens e Van Dyck naturalmente qui a Genova sono dei punti di riferimento fantastico ma allora forse vale la pena di andare a vedere che cosa si diceva nel Seicento di Rubens fece il Rubens diverse opere per vari personaggi e in particolare per alcuni gentiluomini genovesi formò egli in vari quadri diversi ritratti dal naturale a cavallo alti quanto il vivo con amore condotti e similissimi ed in quel genio egli ebbe pochi pari e veramente Pietro Paolo Rubens ha dimostrato al mondo che egli è stato pittore universale ed abbondante di varie invenzioni e ha rappresentato le sue opere con gran vivacità e naturalezza vogliamo tutti bene ad Anna Orlando ma Anna Orlando forse oggi farebbe fatica a sintetizzare la grandezza di Rubens in queste poche righe e con questi aggettivi così pertinenti il fatto di dire Rubens è abbondante è proprio abbonda trabocca e poi questo non è uno scrittore genovese questo è uno scrittore romano è Giovanni Baglione pittore e trattatista biografo in signe che riconosce il fatto che le opere migliori di Rubens sono per i gentiluomini genovesi e parla proprio di ritratti a cavallo grandi come il naturale ed è certamente il ritratto di Gio Carlo Doria che lui aveva in mente quindi vedete come questa tradizione rubensiana genovese che periodicamente è bello poter riprendere e rilanciare era perfettamente nota nel 600 e si riconosceva proprio ai gentiluomini genovesi il fatto di aver affidato la propria immagine a Rubens d'altra parte guardate che cosa dice Giovanni Pietro Bellori altro scrittore del 600 scrittore del con questo gusto per la classicità per l'eleganza per la bellezza ideale Bellori dice Antonio Van Dyck per tante ricchezze acquistate lasciò poche facoltà consumando il tutto nella lautezza del suo vivere piuttosto da principe che da pittore circa il modo suo di dipingere soleva egli condurre alla prima e quando faceva gli ritratti li cominciava il mattino per tempo e senza interrompere il lavoro teneva a desinare quei signori fossero pure personaggi e dame grandi vi andavano volentieri come a sollazzo tirati dalla varietà dei trattenimenti dopo il pranzo egli tornava all'opera ovvero ne avrebbe coloriti due in un giorno terminandoli poi con qualche ritocco anche questa è una testimonianza simpatica come faceva Van Dyck a fare i suoi ritorni invitava a pranzo i suoi personaggi fossero pure personaggi e dame grandi e tutti stavano bene perché Van Dyck era bello era giovane era simpatico era educato e non vadava a spese per avere ottimi cibi e intrattenimenti quindi invitava magari suonatori o attori e così via quindi bello anche vedete a me piacciono queste cose qua andare a capire a vedere anche i piccoli trucchi gli espedienti le trovate che i pittori avevano questo che vedete è un particolare della scultura di Bernini il ratto di Proserpina che ho messo in copertina e se guardate questa fotografia vi rendete conto del virtuosismo straordinario inarrivabile di Bernini Bernini ha lavorato il marmo con una duttilità e con una diciamo nonchalance straordinaria tanto che suo figlio Domenico che alcuni anni dopo la morte del padre ne rievoca la vita mettendo a stampa una biografia dice questo essere il pregio maggiore del suo scalpello con cui vinto aveva la difficoltà di rendere il marmo pieghevole come la cera ed aver in ciò saputo accoppiare in un certo modo la pittura e la scultura cioè Bernini ottiene con la scultura quegli effetti di chiaroscuro di ombra di illusione ottica che abitualmente si ottengono con la pittura e il non aver ciò fatto gli antichi artefici è forse provenuto dal non aver loro dato il cuore di rendere i sassi così ubbidienti alla mano come se fossero di pasta le mani in pasta e se voi guardate questa diciamo carni morbide di proserpina che non è una taglia magra proserpina è nella scultura di Bernini ha quasi le proporzioni di una ninfa di Rubens vedete proprio affondare le dita di Plutone dentro nelle carni morbide di proserpina fantastico davvero Bernini Bernini raccoglie l'arte e la trasforma proprio in qualche cosa di nuovo in una grande illusione in un grande spettacolo adesso appunto ho già citato il claim della ostinabile campagna della promozione turistica dell'Italia che usa la parola meraviglia la parola meraviglia viene utilizzata nel 600 dal poeta Giovan Battista Marino che dice è del poeta il fin la meraviglia ma non è solo del poeta è anche dello scultore dell'artista dell'architetto dello scenografo il barocco cerca la sorpresa cerca appunto la meraviglia e una meraviglia assoluta è la pollo ed afne di Bernini questa grande scultura mitologica in cui noi ci giriamo intorno molto difficile da fotografare molto ma molto difficile da fotografare è fatta apposta per essere vista in senso dinamico ruotandoci intorno guardandola da varie angolature e vedere questa ninfa dafne che sotto i nostri occhi si sta trasformando in un arbusto di alloro e se noi guardiamo la scultura da una parte la vediamo ancora bellissima fanciulla nuda la guardiamo dalla parte opposta vediamo solo la scorza ruvida di un tronco e se poi osserviamo alziamo gli occhi e vediamo che dalle sue dita le dita si stanno proprio trasformando in rametti di alloro con le foglie e Bernini scolpisce un unico blocco di marmo tutta questa scultura è un unico blocco di marmo in cui le foglie che spuntano dalle dita di proserpina scusate di Daphne hanno lo spessore vero delle vere foglie di alloro cioè quasi niente soffio prodigioso forse nella storia della scultura nessuno mai ha avuto la duttilità la cedevolezza la abilità di Gian Lorenzo Bernini il quale Bernini potrebbe sembrare un'antitesi rispetto a Caravaggio il barocco berniniano e l'essenzialità sentimentale e umana di Caravaggio in realtà se noi cominciamo a guardare le cose possiamo anche trovare dei paralleli il grido di Daphne raggiunta da Apollo e trasformata simultaneamente in Albero di Alloro e il grido del Chierichetto di Caravaggio che scappa nella scena del martirio di San Matteo in San Luigi dei Francesi ecco anche questo siamo sempre a Roma siamo a poca distanza uno dall'altro Bernini poi andrà avanti per tutta la vita abbinando associando la grandezza incomparabile di scultore con la abilità di architetto di urbanista occasionalmente anche di pittore di regista teatrale di creatore di spettacoli anche di spettacoli effimeri pensate Bernini progettava fuochi d'artificio qualche cosa destinato a durare un istante a svanire immediatamente e la cosa interessante è che Bernini ha dominato la scena dell'arte a Roma per lunghi decenni ma non in modo incontrastato ci sono stati alcuni artisti che hanno cercato hanno provato di propor hanno provato proporre delle alternative allo strapotere di Bernini e uno di questi è stato Borromini Francesco Borromini un architetto un architetto di origine ticinese veniva dal canton ticino da una famiglia diciamo anzi da una tradizione locale di capimastri costruttori progettisti architetti che affondava all'epoca dei maestri campionesi dei maestri comacini arriva a Roma a Roma inizia la sua carriera era coetaneo di Bernini Bernini nasce nel 1598 Borromini nel 1599 quindi erano proprio coetanei e però subito viene messo come assistente come collaboratore come secondo rispetto a Bernini quando si svincola da questa attività di collaboratore di Bernini per esempio per la costruzione del baldacchino di San Pietro Borromini si mette in proprio e comincia a progettare degli edifici che sono diciamo diversi molto diversi rispetto a quelli berniniani Borromini farà una brutta fine e per molto tempo è stato considerato a fronte della grandiosità di Bernini una specie di parvenu fastidioso guardate come definisce l'architettura di Borromini uno scrittore d'arte neoclassico dice il Borromini portò la bizzarria al più alto grado del delirio deformò ogni forma mutilò frontespizzi rovesciò volute tagliò angoli ondulò architravi e cornicioni e profuse cartocci lumache mensole zigzag e meschinità di ogni sorta l'architettura borrominesca è un'architettura alla rovescia non è architettura è una scarabattoleria di ebanista fantastico bella recensione piena di elogi e questo per dire come noi oggi ammiriamo Borromini qualche anno fa ormai anzi forse vent'anni fa uno degli eredi di questa tradizione ticinese Mario Botta aveva reso omaggio a questo suo diciamo predecessore e concittadino costruendo sul lago di Lugano davanti sul lungo lago di Lugano una costruzione di legno che era una fetta della chiesa di San Carlino alle quattro fontane questa che state guardando qua a Roma e Borromini non ce la fa a sostenere questo dualismo con Bernini per carità realizza diverse cose anche importanti a Roma la chiesa di Sant'Agnese in Agone la galleria prospettica di Palazzo Spada Santivo alla Sapienza che è un capolavoro e così via però si sente quasi schiacciare da questo confronto e nella notte tra il 2 e 3 agosto del 1667 si aggira nella sua casa disperato e scrive il biografo Lione Pascoli Lione Pascoli ci riporta proprio la voce le parole il delirio di Borromini disperato depresso schiacciato schiantato da questo confronto e quando mai finirete di affliggermi o miei pensieri quando l'animo mio cesserà di agitarsi quando partiranno da me tante pene cerco il sonno e non lo trovo parlo con la famiglia e non mi intende chiedo il lume e non lo vedo voglio scrivere e mi si nega bramo di sollevarmi e non posso amo la quiete e non la spero beggo la morte e non mi prende che io ho più in questa cruda ed esecrabile vita e continua il biografo e furibondo alzatosi corse a prendere una spada si lasciò barbaramente cadere sopra la punta e miseramente si passò da banda a banda all'insù verso la schiena il suicidio di francesco borromini è una pagina drammatica insomma nella storia delle arti ed è un suicidio legato proprio al mobbing a cui borromini era continuamente sottoposto da bernini e da coloro che sostenevano bernini fra questi non c'era il Papa il breve Papa Innocenzo X Panfili che viene ritratto da Velasquez quando il grande Velasquez il grande spagnolo Velasquez torna in Italia per il suo secondo e trionfale soggiorno e questo ritratto che è tuttora nella collezione Doria Panfili di Roma è un ritratto che segna proprio la metà del Seicento e naturalmente anche questo c'è dentro nel libro perché questo è stato fatto a Roma è rimasto a Roma se io parlo del racconto dell'arte italiana non è che non parli di Rubens o di Velasquez o di queste presenze importantissime per l'arte italiana poi certo ci sono anche delle pagine dedicate a qualche cosa di meno centrale i Sacrimonti delle Prealpi che sono dei complessi di architettura pittura scultura di magnifica importanza questo è il Sacromonte di Varallo il più antico il più grande il più bello di tutti vi consiglio caldamente di andarlo a visitare è un percorso emozionante perché ci sono queste cappelle in cui avvengono sotto i nostri occhi raffigurate da personaggi in grandezza naturale i fatti della storia di Cristo della vita e della passione di Cristo e io mi ricorderò sempre la prima lezione di storia dell'arte a cui ho assistito neo studente lezione di quello che è diventato poi il mio maestro che autorevolmente ex catedra ci ha detto dopo Gian Lorenzo Bernini il più grande scultore del Seicento italiano si chiama Giovanni D'Enrico era costui Giovanni D'Enrico è lo scultore di molte decine forse addirittura centinaia di statue nei Sacrimonti delle Prealpi in particolare nei Sacromonti di Varallo e il mio maestro aveva ragione perché sono bellissime queste sculture e sono però ancora un po' da scoprire da valorizzare e poi vabbè adesso io non voglio io poi mi appassiono e annoio anche le persone ma poi ecco da una parte ci sono i nomi gli artisti più noti più conosciuti dall'altra parte ci sono forse dei fenomeni da scoprire ieri sono tornato a vedere a Brescia la mostra dedicata a Giacomo Ceruti l'avevo già vista una volta sono tornato a rivedere Giacomo Ceruti che forse qualcuno di voi ricorderà soprannominato il pitocchetto questo pittore della povera gente degli ultimi degli umili può sembrare un pittore minore del settecento italiano in molti manuali di storia dell'arte dei licei quasi non viene nemmeno nominato ma io vi garantisco è un pittore formidabile formidabile che apre proprio tutto un filone di pittura pauperista di attenzione verso gli ultimi allora ecco che ci sono delle zone delle aree dell'arte italiana che forse vale la pena di ripercorrere la natura morta ad esempio tema soggetto che sembra minore meno nobile meno aulico rispetto alla pittura di storia o la pittura sacra ma guardate queste librerie meravigliosamente dipinte dal bolognese Giuseppe Maria Crespi e poi e poi Magnasco Magnasco vedrete ha proprio un ruolo centrale nel libro è il pittore che ci porta tra il 6 e il 700 e guardate io ho citato un catalogo di un'asta un catalogo di una vendita del 700 in cui un dipinto di Magnasco viene definito tutto quello che un agitato estropoetico può manifestare con furiosi pennelli massime in cose tetropatetiche tutto ciò ci ha mostrato questo bravo pittore questo bravo pittore è Magnasco Magnasco che diciamo è il pittore più esplicito di questa ribellione contro l'Accademia l'Accademia prevedeva una pittura accurata attenta diligente precisa e Magnasco invece utilizza un sistema opposto la cosiddetta sprezzatura cioè una pittura rapida veloce schizzata nervosa che non definisce non conclude mai niente e adesso permettetemi la come dire una piccola vanità personale perché vi mostro questo quadro difficile anche da vedere ma che è qui a Nervi al Museo Luxoro che è il pittor Pitocco si intitola così forse intravedete che c'è qua un pittore seduto al cavalletto e che sta dipingendo un grande quadro in uno scenario di rovine ed è circondato da una folla di strani personaggi di figure che emergono dall'ombra è un quadro che va visto con calma con lentezza mettendosi lì e vedendo affiorare una dopo l'altro questi personaggi che spuntano per un attimo dall'ombra alla luce e poi scompaio allora mi permetto di leggervi le poche righe che ho dedicato in questo libro a questo quadro come in un gioco di specchi in un'altra raccolta genovese il museo Luxoro nei parchi di Nervi conserva un'opera del periodo finale di Magnasco intitolata il pittor pitocco è una sorta di riepilogo finale un autoritratto deformato lampeggiante la scena è in qualche modo accostabile alla passerella finale dell'otto e mezzo felliniano uno strampalato pittore ha piazzato il cavalletto tra arcati in rovina smangiate dai rampicanti circondato da una folla di personaggi stravaganti e inafferrabili un campo dei miracoli di zingari balordi girovaghi musicanti da strapazzo donne che allattano bambini sull'altalena il popolo stracciato e umanissimo di Magnasco si raccoglie per l'ultima volta intorno al suo cantore sullo sfondo guardando bene si nota un incendio che sta avanzando e presto distruggerà tutto è un po' quello che succede per per l'arte italiana che nel corso del settecento ha ancora dei momenti meravigliosi altissimi ma sta andando verso la rovina l'arte italiana alla fine del settecento mostrerà difficoltà di ricambio ma soprattutto verrà saccheggiata non solo da Napoleone noi diamo sempre la colpa a Napoleone ma inizia proprio una vendita una una dispersione delle collezioni dei capolavori che se ne vanno all'estero io penso sempre alla Madonna Sistina di Raffaello venduta perché i frati Benedettini di San Sisto a Piacenza non avevano più soldi e vendono al re di Sassonia la Madonna Sistina di Raffaello la Madonna Sistina di Raffaello uno dei quadri più belli del mondo per forse per rifare il tetto della chiesa o del convento chi lo sa e questo è quello che succede all'arte italiana che comunque ha ancora artisti fantastici Fra Galgario Giacomo Ceruti vedete questo ragazzo questo portarolo con la cesta questo bambino che per aiutare un po' l'economia della famiglia fa il garzone con queste il garzone di un polivendolo vedete ha una cesta di uova e due galline da portare questo è un dipinto di 300 anni fa intorno al 1725 ma oggi abbiamo il rider ed è esattamente la stessa cosa questi che attraversano le nostre città più o meno con delle biciclette cigolanti per consegnare il più in fretta possibile delle pizze e raggranellare qualche lina Ceruti l'aveva già capito 300 anni fa e poi l'epopea della pittura veneta del settecento dove a Venezia in questo ultimo secolo della della Repubblica di Venezia il secolo che si concluderà con la pace di Campoformio e con la cessione di Venezia all'Austria abbiamo Pietro Longhi con il suo rinoceronte poi abbiamo i fasti della reggia di Caserta per dire nel settecento il Cristo velato di Giuseppe San Martino a Napoli le regge Sabaude questa è Stupinigi il casino di caccia di Stupinigi il barocco del sud questa è noto e poi appunto Tiepolo che è il rappresentante di questo fasto un po' illusorio però convincente di questa esplosione di spettacolarità che Venezia ancora riesce ad offrire però è interessante anche il fatto che alcuni dei più grandi pittori veneti del settecento per fare carriera vanno all'estero quindi Canaletto passa dieci anni in Inghilterra Tiepolo andrà in Germania e poi in Spagna dove morirà morirà a Madrid Bernardo Bellotto addirittura trascorre eccolo qua tutta la sua vita la sua carriera nelle capitali dell'Europa centrale questa è la sua meravigliosa veduta di Vienna dal dal bel vedere e allora quindi il racconto di Venezia arriva fino all'ultimo rappresentante del vedutismo veneziano quel Francesco Guardi che muore poco prima muore già negli anni 90 del settecento poco prima che Venezia perda la sua millenaria indipendenza e Guardi sembra avere proprio il presagio di questa fine di questo dissolversi di Venezia in questo orizzonte indistinto tra laguna e cielo in questo liquefarsi quasi della città che si disperde nella memoria di una storia gloriosa ma che ormai è finita anche perché ci sono l'Italia diventa un mito diventa un mito per i viaggiatori del Grand Tour e qui vorrei ricordare il grandissimo Pippo Marcenaro che ha fatto qui proprio a Genova ormai tanti anni fa una delle più belle mostre dedicate al Grand Tour un finissimo studioso di letteratura ma anche appassionato d'arte aveva messo insieme arte e letteratura la mostra si intitolava Il corteo magico e questo corteo magico è quello dei viaggiatori che vengono e scoprono la bellezza dell'Italia e l'Italia viene certamente amata moltissimo dai viaggiatori che scendono dall'Europa più ricca più benestante verso questo paese che offre loro anche delle occasioni di acquisto quindi abbiamo dei dipinti di Paolo Pannini o di Johan Zoffani dove noi vediamo i capolavori italiani che sono in questo caso esposti nella tribuna degli uffizi ammirati da molti visitatori stranieri perché sono tutti inglesi tedeschi francesi e chissà mai che non si possa anche comprare qualcosa perché appunto è il periodo della dispersione questo è il figlio di Tiepolo Gian Domenico Tiepolo che ha lavorato anche qui proprio esattamente in questa sala e Gian Domenico Tiepolo è un pittore disincantato che ci mostra appunto guardate questo affresco che lui aveva fatto per casa sua oggi è in Carezzonico a Venezia in cui tutti i personaggi ci girano la schiena ci voltano la schiena come se fosse uno spettacolo che è finito ma non è finito non è finito perché appunto entra in scena un uomo meraviglioso che è Antonio Canova la storia di Canova io se avete voglia leggetevi anche solo i due capitoli su Canova perché è una storia fantastica di questo ragazzino orfano di un paesello perduto in mezzo alla campagna del nord del Veneto che però aveva un talento straordinario ha avuto la fortuna di avere un nonno che ha creduto in lui che ha venduto i suoi campi per farlo studiare sembra veramente una storia una favola una fiaba una leggenda e Canova diventa il difensore della bellezza diventa l'artista che dedica la sua vita alla bellezza e dice sì è vero è vissuto a cavallo tra sette e ottocento ha conosciuto ha frequentato Napoleone ha visto il mondo cambiare ha visto le guerre ma ha capito che si poteva salire un gradino sopra rispetto alla contingenza della storia e fare qualche cosa che sia al di là del tempo e per farlo lui cerca una forma di bellezza che non è e non sarà mai l'imitazione degli antichi dice è neoclassico si copia i greci mai lui dice non bisogna copiarli mai ma bisogna farseli propri e capire cosa consisteva la bellezza dell'arte classica nella natura e la naturalezza la sensualità ecco questa l'ho trovata questa situazione a parte guardare le sculture di Canova è sempre una grande emozione e se voi volete avere una pausa proprio di serenità andate a casa sua a Possagno nella gipsoteca di Possagno vi garantisco che è un posto dove si sta bene ci si riconcilia con il mondo vi vuol altro dice Canova che rubare qua e là dei pezzi antichi e raccozzarli insieme senza giudizio per darsi valore di grande artista conviene sudare di e notte sui greci esemplari investirsi del loro stile mandarselo nel sangue farsene uno proprio avendo sott'occhio la bella natura collegervi le stesse massime questo era Canova altro che il freddo neoclassico no ma cosa ci siamo persi da ragazzi quando ci diceva che Canova ha il freddo neoclassicismo ma quale freddo neoclassicismo c'è una temperatura un calore una passione in Canova quale passione maggiore del amore psiche che stanno per baciarsi cos'è cos'è più sensuale l'istante che precede il bacio il desiderio di tutti e due C'è Canova ha saputo cogliere quel momento preziosissimo e questo è il bozzetto della tomba di Vittorio Alfieri che Canova ha scolpito per la basilica di Santa Croce a Firenze e in cui appunto dà voce alla alle parole dedicate a Santa Croce nei sepolcri di Foscola che parlando della basilica di Santa Croce dice ma più beata che in un tempio accolte serbilita le glorie le tombe dei grandi italiani uniche forse da che le malvietate alpi e l'alterna onnipotenza delle umane sorti armi e sostanze ti invadeano e dare e patria e tranne la memoria tutto ecco l'importanza della memoria la memoria l'arte è memoria la parola monumento ha dentro di sé la parola greca il verbo greco memini ricordo la memoria ricordare l'arte ci aiuta a ricordare i nostri antenati a ricordare da dove veniamo chi siamo che cosa abbiamo dentro di noi cosa portiamo con noi Canova in questo senso è stato grandissimo ed è proprio in parallelo con Foscolo il sottotitolo del mio libro è da Bernini a Canova ma in realtà appunto a Canova poi ho trovato divertente mettere a confronto due citazioni una di Standal e una di Roberto Longhi Longhi detestava Canova l'ha stroncato in modo irrimediabile lo chiama lo scultore nato morto dice ralasciare libero ma deserto il campo agli svarioni cimiteriali di Antonio Canova lo scultore nato morto il cui cuore ha i frari la cui mano all'accademia e il resto non so dove da quel momento più nulla da fare e l'arte italiana per più di un secolo è finita proprio stroncatura completa Standal all'epoca di Canova invece scrive il Canova ha avuto il coraggio di non copiare i greci e di inventare una bellezza come avevano fatto i greci che dolore per i pedanti questo lo scrive Standal per questo continueranno a insultarlo 50 anni dopo la sua morte e anche per questo la sua gloria crescerà sempre più in fretta di quel grande che a 20 anni non conosceva l'ortografia ha fatto 100 statue 30 delle quali sono capolavori e lascio a Standal anche il commento per l'ultima opera che vi mostro perché il mio libro finisce con Canova ma in realtà no perché prosegue anche c'è una coda dedicata ad Aiez e non poteva finire se non con un bacio ecco questo libro Aiez pittore veneziano a Milano scrive Standal mi sembra niente meno che il primo pittore vivente vi ricordate Longhi l'arte italiana è morta invece Standal dice i suoi colori rallegrano la vista e ognuno dei suoi personaggi mostra una sfumatura della passione qualche piede qualche mano sono attaccati male ma che me ne importa questo pittore mi insegna qualcosa di nuovo sulle passioni che dipinge e anche qui mi piace finire con queste parole questo pittore mi insegna qualcosa di nuovo l'arte ci insegna sempre qualcosa di nuovo anche quella che abbiamo già visto rivisto che ci sembra di avere ormai conosciuto a memoria la cuoca di strozzi basta l'ho vista mille volte a palazzo a palazzo rosso ma tornare a vedere invece vedrete che vi dirà qualche cosa di nuovo spenderà un'altra piumetta da quell'oca che ha fra le mani e ci guarderà con quell'occhiettino vispo e ci dirà ancora una volta qualche cosa di nuovo grazie a tutti voi e mi auguro di avere così partecipato a questa fiera del libro e a questa intitolazione di Genova capitale del libro benvenga sapete il libro che cos'è quella cosa che si usava una volta che non si sa bene dove si accenda non so il display dove sia ma vabbè finché ci siamo noi ci saranno ancora i libri grazie a tutti davvero